con quale parte del piede si stoppa la palma con quale si stoppa la palma allora, va bene ancora, fammi vedere un'altra volta va bene, fino a quando non ci riesco oh, perché tu vieni dietro col colpo, le mani? andiamo e proviamo fino a qua non ci riusciamo non ci riesco, entro quattro tiri faccio c'è un altro pezzo oh, prendi la palla ancora, proviamo l'altro piede l'altro piede l'altro piede l'altro piede, sento così vicino lo stai stoppare, dai ok, perché col destro non ci riesco? le braccia larghe voglio vedere le braccia larghe, sto avversando braccia larghe braccia larghe una volta che stoppi la palla adesso, te la rivai e poi verso la porta e verso la porta, non ti fai così, te la portai e la palla hop e la porta, te lo fai dai, fai girare la palla fai girare la palla, libero applausi oi padrippe to rello street grazie 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 grazie